Dalla prossima primavera sarà attiva la nuova centrale operativa unica del 118 per Chieti e Pescara all'interno dell'aeroporto d'Abruzzo. L'accordo è stato firmato questa mattina presso lo scalo portuale alla presenza dell'assessore regionale alla programmazione sanitaria Silvio Paolucci, dei direttori generali delle aziende sanitarie Armando Mancini per l'ASL di Pescara e Pasquale Flacco per l'ASL di Lanciano Vasto Chieti, ai vertici della società che gestisce lo scalo Enrico Paolini, presidente della Saga, e Luca Ciarlini, direttore generale della Saga. La nuova centrale unica del 118 che sarà operativa tra qualche mese sarà ospitata all'interno di un immobile di circa 600 metri quadri e un'area di parcheggio di 700 metri quadri all'interno dell'area aeroportuale d'Abruzzo, come ha spiegato al nostro microfono Silvio Paolucci, assessore regionale alla sanità. Per il paziente non cambia nulla perché chiama sempre il 118, è la risposta che è più di qualità, senza perdere tempo il paziente verrà inviato al presidio che è libero per quanto riguarda i posti letto o che è in grado di affrontare quella patologia, il che significa molto in termini di salute perché si consentirà al cittadino, al paziente che viene colpito da un'urgenza, un ictus, un infarto, un trauma, di essere inviato nell'ospedale disponibile che è in grado di affrontare quel tipo di problema senza perdere tempo. A volte, anzi troppo spesso accade che prima tu direi che è in un pronto soccorso in un presidio e poi devi essere trasportato in un altro ospedale per aggredire il problema. In questo caso si fa direttamente e subito in quell'ospedale che è in grado di affrontare il problema. Ci sarà anche un risparmio per le ASL? Sì, un piccolo risparmio c'è ma soprattutto c'è un grande vantaggio per l'utenza perché le postazioni dei 118 rimarranno invariate, il personale di questa testa pensante sarà presso l'aeroporto di Pescara ma soprattutto il tema vero è che abbiamo voluto rendere baricentrico a questa scelta presso l'aeroporto d'Abruzzo perché riteniamo che qui anche per tanti altri motivi perché collegati a sistemi di sicurezza ulteriori non solo quelli sanitari perché un polo logistico vero perché qui più facilmente può atterrare l'elicottero del 118 per esempio è in grado di dare migliore risposta.